stracandidi youtube buongiorno a tutti buon lunedì buona settimana a tutti un saluto stracandido un lunedì d'analisi rispetto a quello che è successo ieri all'olimpico una gara che non riesco a togliermi dalla testa su cui abbiamo visioni differenti l'ho notato nei commenti l'ho notato sui post social in giro un po quella io resto della mia idea una gara frustrante ci saranno anche state tante assenze per l'amor del cielo tutto quello che volete tutte le giustificazioni che vi pare ma non si può giustificare una roba del genere non si può prima di parlarne sigla e quindi in fondo è un punto in fondo è un punto che muove la classifica nella lotta champions non cambia granché per il napoli che all'asterisco perché deve recuperare una partita così come anche la lazio così come anche la fiorentina che ieri ha perso oggi giocherà la roma a salerno quindi stasera la classifica sarà un po più chiara per quanto riguarda le posizioni che portano alla lotta per il quarto posto però è un napoli che con tutte le assenze tutto quello che volete non convince poi potete anche essere soddisfatti del punto ma lo siamo perché comunque un punto non è una sconfitta perché perdere avrebbe voluto dire problemi problemi questo pareggio ci lascia tutto sommato abbastanza indifferenti tutto quanto è ancora in gioco non cambia nulla se non sapere fin da oggi che lo scontro diretto nei confronti della lazio ci penalizzerà qualora si arrivi a pari punti detto questo mi raccomando iscrizioni al canale con la campanella il like al video soprattutto il like al video i commenti che leggo tutti vi leggo tutti non so se riesco a rispondere ma vi leggo tutti allora cominciamo così almeno rompiamo un po il ghiaccio 6 a gollini è vero com'è vero che il napoli non ha fatto una grande prestazione e che purtroppo non ha mai tirato in porta ma non è che la lazio abbia costruito tutta questa moltitudine di azioni che ti fa dire la lazio ha meritato di vincere la lazio ha fatto la sua partita anche lei aveva delle assenze anche lei non è in un momento brillantissimo della propria stagione probabilmente è stata più pericolosa questo lo possiamo senz'altro dire ma non ricordo parate determinanti di gollini quindi anche la lazio non ha offerto questa prestazione indimenticabile mettiamola così non è stata proprio una partita indimenticabile quindi anche il nostro buon gollini se l'è cavata abbastanza bene soprattutto giocando con i piedi 6 e mezzo alle ostigard il suo nome sulla bocca di tutti per quello che riguarda il mercato in uscita del napoli io però continuo a sostenere che questo sia un ragazzo su cui bisogna investire perché il ruolo i galloni del titolare da quando è a napoli non li ha mai avuti ed è arrivato il momento visto che c'è stato questo cambio epocale per quanto riguarda il modulo tattico di provare a dargli qualche responsabilità inutile cedere un giocatore che tutto sommato conosce l'ambiente conosce i compagni conosce il gruppo è molto apprezzato perché lavora bene è inutile andare a cederlo integriamo la rosa andando a prendere noi emperes che dovrebbe in questi giorni essere ufficializzato e completiamo il reparto ma la grinta di leo magari avrà dei difetti per l'amor del cielo ma solo giocando è possibile limare quelle che sono le problematiche di un calciatore quindi sì a leo ostigart sta tornando in una ottima condizione psicofisica anche rachmani sei e mezzo perché non sta sfigurando nelle ultime prove sia quelle di supercoppa quella con la selanitana dove ha trovato il gol determinante anche ieri sera non mi è dispiaciuto vederlo in lotta con gli attaccanti avversari dove non ha concesso praticamente nulla quindi bene così un rachmani in grande spolvero a comandare la difesa la linea 3 va bene per per tutti va bene per tutti non va bene per one jesus a cui diamo un 6 semplicemente perché la difesa ha retto però qualche pastrocchio di troppo tra lui e un mario lui continuano a farlo purtroppo restano sempre one jesus e mario lui noi questo non ce lo dobbiamo dimenticare anche quando vediamo delle prove difensivamente importanti se qualcosa bisognerà andare a fare sarà da fare in quella parte del campo perché one jesus onestamente queste garanzie non ce le offre a lunga scadenza quindi mi raccomando mi raccomando valter nelle prossime settimane sei al buon capitano giovannino di lorenzo che viene rispedito sul suo ruolo diciamo prediletto copre bene copre bene il cliente con cui aveva che fare era un cliente complicato come felipe anderson si propone soprattutto nella ripresa nel cercare di tornare a scambiare su quella fascia con politano con gaitano che ha fatto un bel inserimento nel secondo tempo sicuramente un di lorenzo in crescita rispetto alla fase finale del 2023 dove sembrava un giocatore completamente perso quindi bentornato capitano sei e mezzo ad eme centrocampo è il reparto che ha funzionato meglio che è riuscito a fare molto bene sei e mezzo ad eme anche lui dovrebbe essere in uscita addirittura si dice che dovrebbe essere messo fuori rosa perché non ci sarà rinno che prende tanto demme non si riuscirà a cederlo in questa sessione quindi andrà a scadenza e lascerà napoli a fine stagione quindi che cosa fare con demme da qui a fine stagione se abbiamo il dubbio cosa fare con demme cosa fare con zenischi che sono uguali le situazioni beh se questo è l'atteggiamento di demme tutta la vita diego demme tutta la vita diego demme che ieri sera ha fatto legna in mezzo al campo ha cercato di muoversi tantissimo insieme allo botca per provare quantomeno a costruire qualcosa non ci siamo riusciti granché ma quantomeno il dinamismo si è fatto apprezzare sicuramente e appunto 7 a stanlo botca in assoluto il migliore ieri sera all'olimpico ha recuperato almeno due tre palloni di quelli che pesano di quelli determinanti che potevano concedere alla lazio delle occasioni per andare a far male invece lui è riuscito a schermare benissimo e a recuperare palloni a volte pesanti non ha potuto costruire granché perché ieri sera la partita non era di costruzione ci auguriamo di poterlo vedere di nuovo in grande spolvero anche dal punto di vista della costruzione del gioco diamo 6 a mario lui perché non vogliamo essere cattivi in fondo ieri il compito della linea a 5 è stato fatto bene quindi non ci sono state grosse criticità però da mario lui ci si aspetta qualcosa anche in fase di costruzione cosa che non avviene se poi ovviamente i dettami tattici spingono verso il contenimento dell'avversario è difficile poter vedere qualcuno che si propone però da mario lui ci aspettiamo sempre qualcosa in più e se vogliamo ieri un po una mezza insufficienza poteva pure prendersela perché ha sbagliato appoggi quasi banali zeninsky credo che sarà buono 5 e mezzo per piotra zeninsky che sia un giocatore intermittente questo lo abbiamo capito negli otto anni in cui è stato a napoli non è che scopriamo qualcosa di nuovo con uno zeninsky che un po c'è un po non c'è un po appare un po scompare però mentalmente mi sembra un pesce fuor d'acqua io continuo a vederlo assolutamente al di fuori di quello che è il gruppo poi magari internamente è un ragazzo che si fa apprezzare un amicone tutto quello che volete però in mezzo al campo mi sembra che dia sempre qualcosa in meno rispetto a quello che potrebbe e questa cosa un po un po stufato un po stufato sei e mezzo apolitano davvero uomo ovunque dell'attacco azzurro seppur non siamo riusciti a costruire granché lui era dovunque è andato a destra a supportare a destra alle spalle di raspadori per provare ad appoggiarlo volte l'abbiamo visto anche sulla sinistra dove magari il suo piede gli poteva consentire di mettere dei cross in mezzo cosa che non è riuscito a fare ma anche perché non siamo stati granché dal punto di vista offensivo però sicuramente mobilità abnegazione corsi all'indietro tante corse all'indietro quindi fatica e infatti poi a un certo punto mazzare ha dovuto anche toglierlo ma è sempre un bel apolitano da vedere quindi è inutile che torniamo su su questo discorso l'unica insufficienza grave ahimè per giacomino raspadori giacomino chi l'ha visto lo ribattezziamo così l'anno scorso era giacomino a 93 quest'anno è giacomino chi l'ha visto perché ogni volta che gioca non si vede poi sappiamo benissimo che è alto quanto me quindi se gli diamo i palloni alti è come dire vabbè buttiamo via la palla o vediamo che cosa riesce a fare se riesce a fare qualcosa però nell'unica occasione che ha di mettersi in mostra lo fa ma poi spreca tutto con un passaggio nel nulla che fa sì che la lazio possa poi ripartire quindi è un giacomino raspadori irriconoscibile io ho la sensazione che psicologicamente lui abbia staccato la spina non è più parte di questo gruppo ma non perché non voglia è perché proprio mentalmente non si sente più al centro del progetto forse tutto questo giro di posizioni che gli hanno provato a far fare non ha giovato per l'amor del cielo non è una prima punta però purtroppo l'emergenza porta a doverlo schierare come prima punta speriamo che si riesca a riprendere in qualche maniera dal punto di vista mentale perché mentalmente ragazzi giacomino non c'è i subentrati molto bene sei e mezzo a Gaetano e Ngonge Gaetano è entrato bene tra l'altro l'unico tiro verso la porta è il suo crea anche una bella ripartenza che poi porta a una punizione importante guadagnata da Ngonge che Zerinsky calcia fuori ma che bel Gaetano che bel Gaetano se questo è Gaetano meglio un Gaetano che uno Zerinsky ecco Ngonge è entrato bene Ngonge è entrato bene ha fatto vedere gamba ha fatto vedere voglia ha fatto vedere che che ci sta in questa squadra ci può stare in questa squadra lo aspettiamo a partite dove magari dal punto di vista della delle occasioni da gol creeremo di più ma le premesse sembrano essere molto buone mister Walter Mazzarri qualcuno potrebbe dire vabbè il punto l'ho portato a casa a sufficienza no 5 e mezzo il punto mi sta bene come è arrivato il punto assolutamente non posso essere soddisfatto poi io ho letto nei commenti che tanti sono soddisfatti perché tanti dicono eh vabbè ma c'erano tante essenze cosa vi potevate aspettare di più eh non fa citerire eh non diciamo strunzata non si poteva fare niente di più un tiro in porta si poteva avere un tiro magari velleitario no a due all'ora che eh provedel prendeva così si si può avere questo chiedevo invece ieri sera la gara è stata impostata prettamente da catenaccio anni 70 e a me sta roba non mi va ragazzi non mi va non mi va cioè devo essere contento di un pareggio venuto fuori così ma per l'amor del cielo ma per l'amor del cielo speriamo che recuperando qualche uomo si riesca a vedere qualcosina in più adesso abbiamo tempo di riposare poi c'è il Verona settimana prossima e vedremo un po' eh di 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 riabbracciare Frank Zambò Anghissà che è stato eliminato da Ozyman in Coppa d'Africa la Nigeria è andata avanti battendo il Cameron quindi Anghissà torna nei prossimi giorni a Napoli sarà disponibile col Verona torneranno anche gli squalificati Quara Simeone e Caiust piano piano eh arriveranno anche tutti gli altri vediamo cosa succede con noi in Perez per completare il mercato eh di gennaio stracandi di YouTube per questo video è tutto vi ringrazio vi saluto vi auguro un buon proseguimento di giornata e di settimana non vi dimenticate che il calcio fa bene alle ossa e soprattutto statelo buono